E ciao a tutti ragazzi sono Black Knight e oggi siamo qui in un nuovo episodio di Clash Royale Allora siamo nella terza, nella terzo episodio della sfida fuori legge Facciamo un'altra battaglia, sono messo abbastanza bene, tre vittorie e una sconfitta Io qui direi Dragon Finale o Principi Nero? Io direi Dragon Finale Princess, raga la prima volta, cioè quasi la prima volta perché l'ho già usata Prendo il coso, la fuori legge o Mini Pecca? Perché Mini Pecca la spacca la fuori legge Io direi Mini Pecca Avete visto era scritto in spagnolo? No dovete vedere, ok raga se non l'avete visto tornate indietro e vedetelo perché Una roba assurda Yei 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 Gaccia Ok però non aveva fatto più danni noi Proviamo di Mini Pecca Ok e di anche di Principessa Ok raga stiamo in vantaggio Come sempre Raga sono una vittoria e 8000 di oro Devo farla per forza Uh perfetto Noi abbiamo la torre inferno Viva la torre inferno Viva la torre inferno Uh ce l'ha fatta fuori Ma noi abbiamo il drago inferno Che spacca il culo Che spacca il culo a lui Poteva essere utile lo sapevo accidenti Meglio meglio così raga Cosa facciamo in questo caso? Così Così Golem del ghiaccio tutta la vita Barilla e Goblin tutta la vita E Sbam ci siamo difese alla grande Mini Pecca Torre inferno Sgherre Sgherrette Sgherrine Oh cavolo Ci sta a fa culo questo No Ci ha fatto il culo No Caspita Ci ha fatto la super orda Alla fine Aio Ok raga Una cosa è sicura Non ci riusciamo a fare 12 vittorie Ma Questa deve essere una vittoria Assolutamente Così guadagniamo quell'8000 Sgherri Perché distorcono il mega sgherro Pala di fuoco Perché distrugge L'orda di Sgherri Goblin Allora Io direi I cosi I moschettieri I tre moschettieri Speriamo non troppo costoso Uh Buonissimo Per ora Per ora La pala di fuoco Ce l'abbia a noi Quindi Per lui Dovrebbe essere Tutti inutili Oh è vero Aveva quello Oh cavolo Per ora è in vantaggio Mmm Non è un buon segno L'ariete Ma che schifo L'ariete Un mortaio Abbastanza buonino Provevo a mettere L'ariete Da battaglio Spam I danni Quelli Mmm Li abbiamo fatti Quelli Ok Avete visto Prima la fuorileggio Cosa fa Prima diventa Tutta bianca E fa Ni 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 E poi va All'attacco Con una scia blu Lì direi Di far di razzo Ma dopo Ci rimane Quattro Delle siri Che è sufficiente Sì dai Facciamolo Ti prego Prendi il mega sgherro No Vabbò Chi se ne Chi se ne Noi ce ne andiamo Proprio a Chi se ne Chi se ne Chi 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 se ne Ora direi che possiamo Preoccuparci Ora Si No la furia Ok abbiamo perso Sta partita Accidente L'abbiamo Però rimane ancora un minuto Spero Spero sia sufficiente Raga No mi sa che l'abbiamo persa Tutta colpa del razzo No tutta colpa dei tre moschettieri Che costano troppo Per ora Dobbiamo fare il culo Se no Se non ora Mai più Ariete dietro Cucciolo del drago Del drago E' scritto bella giocata Io dico grazie Aspetta Ok Avete visto Una folleggia Una mazza 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 Ma Mazza Ho tirato la razza a caso Oh cavolo raga Mi sa che questo va in pareggio No Dobbiamo vincerla noi Chi si è visto Si è visto Moschettieri Goblin Cucciolo del drago Ok Sono sopravvisto di tutti Raga Raga 812 Vi dice qualcosa Questo numero A me Si Ok Due ancora vivi Raga Razzo Ok Ups 300 Ok Pecchio Non ce li frega niente Noi andiamo all'attacchissimo 160 53 Palla di fuoco Ho vinto Ho vinto 8000 di oro Raga Sono troppo contento 8000 di oro Ma cosa ride Ma cosa ride questo che ho vinto Ho fatto una rimonta del secolo 8000 8000 8000 Eh Me la merito questa Meritata 8000 Pum 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 Spam 11104 Ragazzi Ok Devi fare un'altra No Prossimo episodio Anzi no raga Allora vi dico una cosa Io direi che 4 vittorie E 2 sconfitte Sono un pochino male Quindi Ci dobbiamo ricaricare E io Direi che I prossimi I prossimi video Li faremo un altro giorno Ok Ma dato li caricherò Tutti nello stesso Cioè Tutti quasi Nello stesso momento Perciò Questa cosa per voi Non è importanza L'importante è che Vedete tutti i miei video Ciao